buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di elezioni per il rinnovo dei consigli di istituto dell'anno scolastico 2022 2023 prima domanda quando si terranno le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo o di istituto scaduti per decorso triennio entro il 31 ottobre 2022 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado non giunti a scadenza con la procedura che viene definita semplificata le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo o di istituto scaduti per il decorso triennio o per qualunque altra causa nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti si svolgeranno secondo la procedura invece ordinaria la data della votazione sarà fissata dal direttore generale dirigente preposto di ciascun ufficio scolastico regionale l'usr per il territorio di rispettiva competenza in un giorno festivo dalle 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13 e 30 non oltre il termine di domenica 27 novembre e lunedì 28 novembre 2022 che è ultima data utile eventualmente per svolgere queste elezioni ma gli usr potrebbero anticipare rispetto a una domenica o lunedì di novembre successiva al 31 ottobre ma precedente al 27 28 novembre domanda numero 2 gli istituti omnicomprensivi e i convinti nazionali potranno istituire un consiglio di istituto il consiglio di istituto beh diciamo che nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia primarie e o secondarie di primo grado sia scuole secondarie di secondo grado invece continuerà ad operare il commissario straordinario non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione dunque omnicomprensivi e convinti nazionali continueranno a non avere un consiglio di istituto domanda numero 3 quante preferenze possibile dare per le elezioni del consiglio di circolo o di istituto ai sensi dell'articolo 40 comma 7 del dell'ordinanza ministeriale 215 del 91 e successive modifiche il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato appunto nella scheda le preferenze nel numero di uno oppure due a seconda che i posti da attribuire siano fino a tre o superiori a tre dunque se c'è da dare più di tre posti in consiglio di istituto valgono due preferenze potranno essere spesse un segno di matita accanto al nominativo del candidato dei candidati che sono prestampati nella scheda speriamo che queste risposte alle domande riferite proprio a questa tipologia di operazione cioè le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo di istituto per l'anno scolastico 2022 2023 sia utile a tutti i nostri telespettatori un saluto e alla prossima puntata